allora ragazzi vi giuro vi giuro io questo video non lo volevo fare i strumenti che come posso spiegare nella classe mia ho detto ad alta voce che oggi portavo hello kitty e oggi sto portando a pranzo con hello kitty quindi se non lasciate like adesso non so più che portare allora ragazzi se questo video raggiunge 6 like porto mascia e urso l'ho detto quindi buona visione è andato al video è andata l'intro quello che è vai vai andate vai oggi siamo qui su a pranzo con hello kitty yeee ovviamente ragazzi saluto erika perchè lei ha detto salutami quando fai questo video quindi io la voglio salutare allora io a questo gioco non ce l'ho mai giocato però allora ragazzi ve l'ho detto penso già dall'inizio del video vi ho detto che l'avevo promesso a dei miei compagni di classe quindi oggi siamo qui e lo chi ti mangia se lo spacco veramente ti spacco allora ragazzi non mi scrivete sotto i commenti che sono gay perchè no ragazzi non ti piace niente ah ecco ho capito ho capito già la situazione allora adesso io facciamo un panino tipo questo io facciamo questo poi tipo andiamo avanti facciamo tipo l'olio tutto l'olio ah si è vicinato il coso ah perfetto ah solo no io non ho mai trovato poi vabbè ma il video esce uno schifo però il video uscirà uno schifo ok adesso mi mettiamo un sale a caso ok adesso mi mettiamo questa roba ok adesso io questo non lo voglio mettere e raga esce una cosa buona ma non c'è una miseria perché devo uscire le cose buone sta sta gatta che non ho mai capito più se è gatta però va bene e giriamo boom 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 e va be ragazzi qua mi sento un poco in disagio e si ho capito tu devi così sparare però io tu non hai idea vai 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 guarda se non ti piace io vado non ti piace devi vomitare devi vomitare devi vomitare devi vomitare tutto no raga veramente sta succedendo questa cosa raga questo sta mangiando uno schifo vabbè intanto a me si era aperto whatsapp io non c'è insomma niente perché tanto non c'è scritto il suo vero nome quindi ok è già finito ma se io tipo faccio un panino che fa poco schifo ai maiali dovrebbe vomitare dai raga ma come si fa a mangiare sta roba questa no se dici che gli piace veramente la sputemolo va bene allora allora adesso è arrivata la parte pervertita del video mettiamo una zucchina non pensate male che è una zucchina che dobbiamo tagliare questa zucchina aia che dolore e niente tagliamo ancora questa zucchina ovviamente non assomiglia al no 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 allora quindi adesso video per le femmine vabbè penso che si è capito ma pure per una challenge cioè quindi è bello mangiare di zucchino vabbè adesso un'altra cosa che devo soffrire cioè che cosa è sapone la cipolla la cipolla e vi faccio mangiare la cipolla vai e questo è proprio il massimo proprio raga se vomita cioè veramente se vomita voglio 30 miliardi di like cioè voglio più like di PewDiePie cioè quindi allora ok abbiamo un taglio ah 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 e ma vabbè ah che schifo ah dobbiamo metterci anche la bandiera e vi metto la bandiera più schifosa che ci sta poi vi metto sto piacchettino che visto che è rosso che assomiglia al sangue e lo mettiamo si può mettere ok vai si è messo vai devi morire devi ah dobbiamo utilizzare ok ovviamente è realissimo questo gioco ragazzi ehm si ehm no se lo dovrebbe mangiare dovrebbe ti piace 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 invece sì piacere piacere piaciti ma niente vabbè piaci ti astag piaci ah posso uscire va bene grazie ah gli adesivi mettiamo lei con lei sopra ok adesso ragazzi morirà e o cosa poi mettiamo un altro di questo posso mettere un attimo questo ok l'abbiamo messo con questo che ci muore sopra ok vedete adesso muore a posto ti piace una che sta morendo ti piace mi fa piacere sì un panino bellissimo sì sì bello ciao mi raccomando non vomitare cioè adesso è lo chitti con quel panino penso se non è down non è down farà una challenge challenge su no ragazzi li hai mangiato che schifo che schifo che che schifo che schifo che schifo buu 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 schifo sono felice Allora, ha un altro panino No, 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 ragazzi Ragazzi, per me il video può finire qui Se vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale Meno male che è finito questo video Perché E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi, ovviamente questo è un tutorial Su come fare panini molto buonissimi Ciao ragazzi Ciao